Entra Floriano, non cambia lo schema, cambiano le caratteristiche dei giocatori. Sempre in difesa della sua teoria. Sì, almeno il mio dettame, la mia indicazione era quella, però è chiaro che così per caratteristica avendo Floriano lì che poteva magari dare un riferimento in più per allargare le maglie dell'Avellino, poteva creare qualche presupposto in più nell'uno contro uno e la capacità di lavorare insieme a Dely nell'andare ad attaccare la linea difensiva avversaria. E la seconda consecutiva, finalmente non muoviamo soltanto la classifica, ma sono due vittorie che oltretutto ci fanno guadagnare una posizione in classifica. Non è niente perché manca ancora tantissimo davanti, però oltretutto guardando quello che sta accadendo sotto di noi o lì vicino, vincono tutte e quindi non devi assolutamente abbassare la guardia. Al contrario, coltello tra i denti e continuare a lavorare così. Mi auguro che questa vittoria in casa ci possa dare quella linfa in più perché lo Zaccheria per noi deve ritornare ad essere un fortino, deve ritornare ad essere qualcosa di impossibile, almeno per gli avversari, perché poi il percorso che abbiamo fatto e che stiamo facendo anche fuori casa ci permetterebbe poi di avere una solidità, parlo di classifica, di numeri, diversa, nettamente diversa. C'è stato un rimpallo e siamo andati sotto, potevamo andare sopra nell'azione precedente con Deli e purtroppo non siamo riusciti ad andare in vantaggio, sicuramente si poteva aprire una partita diversa, però la squadra ha continuato a lavorare come di solito sa fare, forse l'inizio per il clima un po' surreale non ha spinto come di solito sa fare, e quindi sotto di un gol ha dovuto poi spendere energie nervose importanti. Peccato per il rigore mancato di Mazzeo perché poteva portarci anche a fare una partita diversa nel secondo tempo perché mancava un paio di minuti alla fine del primo, però nonostante questo la squadra ha cercato con le giuste conoscenze, con la giusta volontà di andare a vincerla. Infatti sono soddisfatto soprattutto per i ragazzi che hanno speso molto. Grazie per la visione! Grazie per la visione!